fallo vibrare per te e lui ti cercherà 365 giorni in anno il concetto sono due fallo vibrare e lui ti cercherà questo è un concetto importante tu devi dare degli stimoli e basta come fare a dare degli stimoli quindi la vibrazione che cos'è la vibrazione è la frequenza è lo stimolo che tu puoi dare a una persona per coinvolgerla per fare l'innamorare e nel momento in cui tu dai questa vibrazione la vibrazione è un'emozione tu non devi fare nient'altro devi attendere che questa persona ti cerchi l'unica cosa che devi fare quando questa persona ti cerca è mettere dei vincoli mettere delle condizioni perché soltanto attraverso i vincoli soltanto attraverso le condizioni tu riuscirai a diciamo ottenere dei risultati se non metti vincoli se non metti condizioni non tiene nessun risultato quindi quello che come fare a farlo vibrare beh devi sfruttare le caratteristiche degli esseri umani che hanno quali sono le caratteristiche principali che hanno gli esseri umani beh intanto la caratteristica principale è quella che si coinvolgono sia attraverso il dolore sia attraverso il piacere il piacere tra virgolette piace alla sfera logico razionale il dolore paradossalmente piace alla parte emotiva non è che alla parte emotiva non piaccia diciamo provare piacere ma sono due sono due facce questa medaglia praticamente non puoi provare piacere se non provi dolore pensa un attimo non puoi veramente apprezzare la libertà se non hai provato il gabbio diciamo così non puoi veramente apprezzare la salute se non hai provato la malattia e questo è un ragionamento semplice però tieni presente che tutte le persone che diciamo stanno bene non non se ne rendono conto come se questo benessere che provano non fosse importante e pensa che questo capita veramente molto spesso guarda quante persone magari anche te stai bene di salute non è nessun problema ma non apprezzi questo stato non ti rendi conto che è invece un qualcosa che dovrebbe essere valorizzato dovrebbe essere importante invece non si apprezza perché non si apprezza perché dice una cosa normale quindi gli stimoli dati nello stesso senso senza variazione vengono classificati normali non producono vibrazione la vibrazione è proprio un'oscillazione la capacità di far oscillare una cosa dall'altra ecco quindi che se tu vuoi farlo vibrare se tu vuoi far sì che in qualche modo questa persona venga stimolata si coinvolga cerchi diciamo così di di ti cercherà se vuoi che questa persona ti cerchi se vuoi che questa persona si innamore se vuoi che questa persona si coinvolga devi imparare proprio a stimolare vibrazione e tu stimoli vibrazione attraverso dolore alla sofferenza attraverso il piacere alla sofferenza attraverso stimoli alternati e questa è la vera capacità quindi la vera capacità delle persone è quella di gratificare di penalizzare questa è la vibrazione e allora la persona sentirà emozione sentirà energetica cercherà per farlo però devi essere consapevole di quello che stai facendo questo è un altro punto molto importante un altro punto fondamentale essere consapevole significa che gli stimoli che devi dare devono essere stimoli calibrati nel modo giusto quindi è molto importante ad esempio per evitare di sconvolgere la sfera logico e razionale iniziare a dare e poi togliere togliere quello che tu hai dato quando in un momento in cui togli già penalizzi se io ti abituo a telefonarti tutti i giorni poi smetto di farlo ti sto penalizzando se io se io sono abituato se tu sei abituato al fatto che io vengo ti cerco e poi dopo quando non lo faccio più ti sto penalizzando insomma sono tutte cose che se riesco a mettere a segno nel modo giusto danno i giusti risultati ma va fatto nel modo corretto gli stimoli devono essere presentati veramente nel modo devono essere veramente presentati nel modo corretto se non li presenti nel modo corretto non ottieni risultati quindi penalizzare eccessivamente da un punto di vista logico è sbagliato perché inneschi i meccanismi di difesa ma anche gratificare eccessivamente è sbagliato perché disinneschi diciamo le emozioni quindi l'alternanza tra uno e l'altro e l'assenza l'indifferenza cioè l'indifferenza ad esempio non è che io ti sto facendo qualcosa di male o ti sto facendo semplicemente non ti considero quindi se prima ti consideravo poi ti do l'indifferenza genera una vibrazione genera un'onda ed è soltanto l'onda che stimola la persona in modo quasi ossessivo a cercare a cercare di capire a cercare di inseguire quindi questo è un po' il concetto fondamentale che devi imparare diciamo a portare avanti se vuoi ottenere dei risultati se vuoi far sì che questa persona si coinvolga per fare questo hai necessità di distaccarti dal risultato non devi essere attaccato al risultato perché se sei attaccato al risultato se sei lì e pronto a come dire hai un attaccamento hai una paura di perdere qualcuno allora sicuramente lo perderai ecco queste sono le strategie che ti suggerisco di portare avanti se tu vuoi diciamo raggiungere dei risultati concreti nella seduzione nel coinvolgimento nel far innamorare le persone che ti interessano perché è veramente l'unico sistema distaccarsi dal risultato cosa significa significa che tu diventi autosufficiente nella produzione di emozioni quindi non non dipendi da un'altra persona per darti emozioni quindi acquisisci questa capacità di autostimolarti emotivamente attraverso che cosa beh attraverso l'interazione l'interazione con altri ma non solo con la stessa persona quindi interagire con più persone quello che ti permette di di essere autosufficiente da un punto di vista emozionale per cui l'autosufficienza significa che la tua parte emotiva comunque ha la pancia piena la tua parte emotiva comunque non ha necessità di altri approvvigionamenti diciamo così e quindi sta bene non ha bisogno di fare di inseguire di cercare perché già sta bene per i fatti suoi ecco queste sono le cose fondamentali che devi imparare a fare nella seduzione nel coinvolgimento nell'innamoramento se non ci sono queste cose beh difficilmente riuscirai a fare innamorare chiunque o qualcuno che ti possa interessare bene segue l'istruzione vedrai che ti cercherà 365 giorni l'anno se gli fai vivere queste vibrazioni bene per questo video è tutto se ti è piaciuto metti un like condividilo con i tuoi amici iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video ti ricordo anche di seguirmi su instagram massimo terramasco ufficiale e su tiktok e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare abbonarsi è facile basta andare nella home page tastina abbonati che sta vicino al tastino iscriviti e poi selezioni l'abbonamento che preferisci se non lo vedi con l'app del cellulare vai con il computer per Grazie.